Ciao a tutti! In questo video vedrete 16 cose che forse non sapete sul parquet. Risponderò a delle domande molto frequenti e vi dirò alcune curiosità sull'argomento. Quindi se state pensando di acquistare un parquet o se dovete sistemare un vecchio parquet, vi consiglio di guardare il video fino alla fine. Iniziamo! Quante tipologie di parquet esistono? Abbiamo due grandi famiglie, il parquet massello e il parquet prefinito. Quello massello è composto dagli stelle in legno massiccio con un unico blocco di legno nobile. Ciò significa che l'intero elemento è formato dalla specie legnosa scelta, ad esempio il rovere. Se parliamo di parquet massello, parliamo del parquet per eccellenza, quello tradizionale e anche più antico. Poi c'è il prefinito, chiamato anche stratificato o multistrato, composto da due o tre strati di legno accoppiati ed incollati, con il legno nobile sulla superficie. A dire il vero ci sarebbe una terza tipologia, che è il parquet prefinito, il legno massello, dove abbiamo elementi legno massiccio già lavorati e pronti all'uso. Ma a dire il vero solo poche aziende lo producono e non è molto richiesto. Che differenza c'è tra parquet e laminato? Troppo spesso si sente parlare di parquet laminato, ma in realtà il laminato non è un parquet. Per essere definito parquet, il pavimento in legno deve avere uno strato di legno nobile superficiale di almeno due millimetri e mezzo, ma per quanto riguarda il laminato, in superficie abbiamo uno strato di usura che riproduce l'essenza del legno. Non c'è alcun legno nobile e quindi non possiamo parlare di parquet. Che cos'è l'essenza del parquet? Per essenza del parquet si intende la specie legnosa del vostro pavimento, quindi il tec, il dossier, l'iroco, l'acero, quella che sceglierete. Da qualche anno l'essenza più richiesta è il rovere, soprattutto perché si presta alle più svariate finiture di superficie, quindi un legno versatile, oltre al fatto che c'è ancora una buona disponibilità di tronchi. È vero che il parquet è caro? Dipende che cosa intendete per caro e rispetto a quali pavimenti fate il confronto. A mio avviso un buon parquet ha un costo di partenza di circa 50 euro al metro quadro, pose esclusa. Dico 50 euro perché per questa cifra dovrete trovare un pavimento in legno con un discreto strato nobile e un grande formato, che in genere è il più richiesto. Con 50 euro al metro quadro posso anche comprare un grass effetto legno di grande formato di una famosa azienda italiana, quindi a parità di caratteristiche i costi sono piuttosto simili al grass, che probabilmente è il pavimento più richiesto del momento. Da questi 50 euro al metro quadro posso anche scendere, arrivare anche a 20 euro al metro quadro perché ci sono dei parquet low cost, che sinceramente vi sconsiglio, ma posso anche salire di molto, arrivare anche a 200 euro al metro quadro, ma d'altronde la stessa cosa avviene anche col grass in lastre di grandi dimensioni. Ho il riscaldamento a pavimento e voglio mettere il parquet. È possibile? La risposta è sì. Purché si utilizzi un parquet adatto a riscaldamento radiante e certificato dal produttore e purché il parchettista verifichi l'umidità del massetto di sottofondo, che deve rispettare precisi parametri. C'è tuttavia una cosa da dire che riguarda l'uso dei tappeti. Se avete il parquet e il riscaldamento a pavimento non dovreste utilizzare tappeti, soprattutto se parliamo di tappeti pesanti. Il fatto è che il tappeto fa da coperta e tiene il caldo sotto, quindi perdete l'efficienza energetica e soprattutto si surriscalda e si disidrata la superficie sotto il tappeto e quando toglierete il tappeto noterete delle fessurazioni che al di fuori del tappeto non ci sono o comunque sono meno presenti. Non c'è invece una posa più indicata per il riscaldamento a pavimento, anche se il mio parchettista di fiducia consiglia quella incollata che evita la formazione di bolle d'aria che farebbero da ostacolo al passaggio del calore. Posso utilizzare un parquet in bagno? Sì, potete mettere un parquet in bagno a poto di rispettare alcune regole e di seguire alcuni suggerimenti. Innanzitutto fate attenzione ai ristagni d'acqua. I ristagni pericolosi sono quelli prolungati, come ad esempio la perdita d'acqua dalla lavatrice che stagna per ore sul pavimento e che può imbarcare il parquet. Le gocce d'acqua per terra non sono invece un problema, ma dovete asciugarle entro breve tempo, come d'altronde fareste con altri pavimenti. Seconda cosa a cui fare attenzione è l'accesso di umidità ambientale, provocato ad esempio dall'uso della doccia e della vasca. È sempre necessario arieggiare correttamente la stanza da bagno perché un ambiente troppo umido è ostile al legno, che è un materiale igroscopico che assorbe le molecole d'acqua presenti nell'aria. Un altro aspetto da curare è la scelta della specie legnosa, perché alcune specie sono più indicate per il bagno, come ad esempio il tec, l'irocco, il dossier e il merbau, tutti legni con proprietà comuni come elevata stabilità e tolleranza agli sbalzi di temperatura. Anche il rovere è indicato per il bagno, a patto di fare attenzione agli eccessi di umidità e all'ariazione del locale. Per tutte le informazioni sul parquet in bagno, date un'occhiata al mio video dedicato che vi lascio qui in alto e in descrizione. Perché il parquet si gonfia e si dilata? Il parquet si gonfia e si dilata perché è un materiale vivo ed igroscopico. Come vi dicevo, assorbe le molecole d'acqua presenti nell'ambiente e di conseguenza assorbe l'umidità e si gonfia, ovviamente in caso di eccessi di umidità. Perché il parquet scricchiola? Se il vostro parquet è scricchiola ci possono essere diversi motivi. Uno di questi è che avete un flottante che in determinate condizioni climatiche e di umidità ambientale scricchiola tra listello e listello. Magari vi ritrovate con un parquet che scricchiola solo in determinati periodi dell'anno, come ad esempio l'estate, dove di solito il parquet è maggiormente in tensione. Oppure avete un vecchio pavimento in legno, un mansello chiodato, dove l'effetto dello scricchiolio è amplificato. Perché il parquet cambia colore? Il parquet cambia colore a causa di un fenomeno chiamato ossidazione. Date un'occhiata a questi due listoncini dello stesso parquet. Quello a destra è rimasto esposto alla luce naturale dell'ambiente, mentre quello a sinistra era coperto da un mobile. Il risultato è che il listoncino esposto alla luce ha cambiato colore diventando più scuro. Questo fenomeno è appunto l'ossidazione del legno ed è più evidente soprattutto nei pavimenti esotici, mentre in altre specie è più lieve, come ad esempio il rovere. Ho un vecchio parquet scuro e vorrei sbiancarlo. È possibile! Non può essere sbiancato come forse qualcuno vorrebbe. Mi spiego. Se prendiamo ad esempio un vecchio erocco, non è che basta una levigatura per sbiancarlo, perché una volta tolto lo strato di superficie con la levigatura, sotto avrete sempre un pavimento scuro. Ciò che invece potete fare è aggiungere una finitura coprente, come ad esempio la laccatura. Quindi andiamo a mettere una vernice del colore che preferiamo e cambiamo l'aspetto del pavimento come è stato fatto in questo caso. Noterete che rispetto al parquet di finestra, in quello verniciato si nota molto meno la finitura di superficie, quindi il vostro vecchio pavimento scuro può essere sbiancato, tra virgolette, con una verniciatura. La levigatura del parquet ogni quanto va eseguita. Non c'è un periodo prestabilito, dipende dall'utilizzo del pavimento, dal tipo di parquet e anche dei vostri gusti personali, perché magari vi piace vedere un parquet con i segni dell'invecchiamento. Ma un altro aspetto da prendere in considerazione è il tipo di finitura e di lavorazione del pavimento. Su un vecchio pavimento completamente liscio si noteranno molto di più i graffi e i segni del tempo, mentre su altre finiture come un sabbiato o un taglio sega in genere i segni del tempo si notano di meno. Per togliere i graffi da un parquet è sempre necessaria una levigatura oppure ci sono interventi meno invasivi. Se il parquet è un oliato si può intervenire sull'area dove c'è il graffio, dove c'è il danno. Però non aspettatevi sempre dei miracoli, perché bisogna anche vedere l'entità del danno, il tipo di graffio. Se il graffio è longitudinale e segue il senso della venatura, è più facile intervenire rispetto ai graffi trasversali la doga e la venatura. La cosa migliore è contattare un parchettista che valuterà lo stato del pavimento. Da quali zone del mondo arriva il parchè che finisce sui nostri pavimenti. Se parliamo di materia prima e in parte semilavorati in rovere, il legno arriva dalla Slavonia, che è una regione geografica della Croazia orientale, dalla Russia, dall'Ucraina, dalla Polonia, dal nord Europa arriva l'Acero, dall'Africa arrivano Dossier, Iroco e Afromosia, dal Sud America, dall'Indonesia soprattutto per quanto riguarda Merbau e Tech e dal Nord America per quanto riguarda Rovere ed Acero-Canadese. Che cos'è la scheda prodotto del parquet? La scheda prodotto, che è diversa dalla scheda tecnica, è un documento che racconta il vostro pavimento, quindi il tipo di legno, provenienza, lavorazione, il tipo di vernice, le dimensioni, la manutenzione richiesta ed altri dati ancora. Ricordate che il venditore è obbligato a consegnarvi la scheda prodotto, se non lo fa rischia delle multe, quindi ricordatevi di richiederla al momento dell'acquisto. Chi contattare per l'acquisto del parquet? Io vi consiglio di rivolgervi ad un rivenditore che sia anche posatore. In questo modo avrete un unico referente per la vendita e per la posa, ma anche un unico responsabile. Per trovare un rivenditore specializzato, utilizzate il mio sistema di ricerca che trovate in descrizione. Perché dovrei scegliere un parquet? In genere chi ama il pavimento il legno e lo conosce, non ha bisogno di motivazioni e non vuole sentire confronti con altri pavimenti. Io lo sceglierei perché è un materiale vivo, caldo al tatto in inverno e sul quale è possibile camminare scalzi tutto l'anno, a differenza di pavimenti più freddi. È anche un materiale naturale che si può rinnovare nel tempo e che in genere incide in modo positivo sul valore della casa. Questi sono solo alcuni dei motivi, senza contare che si adatta praticamente a tutti gli stili di arredo. Se avete delle domande su quanto detto o in generale sul parquet, scrivete un commento, date un'occhiata alla descrizione perché trovate altre informazioni sui pavimenti in legno. Se questo video vi è stato utile lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima puntata qui su Voglia di Ristrutturare. Un saluto a tutti da Lorenzo. Ciao ragazzi! Grazie! 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 Grazie!